Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing, partiamo con i prodotti Rappoo da questo VH200, un headset da gaming illuminato come indicato sulla confezione, comunque che ha l'illuminazione sui padiglioni auricolari. Vedrete sul canale, nelle schede che saranno già usciti, anche gli unboxing del V200, mouse da gaming, e la V800, una tastiera meccanica con layout italiano. Vedremo vende tutti questi prodotti anche in fase di recensione, Rappoo è uno dei brand nuovi che abbiamo visto emergenti all'IFA di Berlino, ottime impressioni sui prodotti, fa anche prodotti per l'ufficio, per la produttività che mi piacciono parecchio, magari li vedremo prossimamente. Comunque, essendo un brand emergente, vi anticipo che ha dei prezzi molto accessibili, però la qualità dei prodotti non sembra mancare. Dunque, iniziamo con questo unboxing, lo vedete voi direttamente, e andiamo a vedere cosa troviamo e come sono fatte appunto queste cuffie. Precisando che le abbiamo a disposizione di colore bianco e di colore nero, che abbiamo un codice QR e i parametri sul microfono che c'è all'interno e sulle cuffie, sul direttamente sulla confezione, procediamo all'apertura. Ovviamente è un unboxing molto rapido per farvi vedere vicino il prodotto. Questo troviamo all'interno della confezione. Dunque, le cuffie, che come vediamo sono molto grandi, perché essendo anche da gaming, devono offrire una sorta di isolamento, con le dovute virgolette, comunque un'ottima immedesimazione all'interno dell'ambiente di gioco. Soprattutto sui giochi, gli FPS ad esempio, dove dobbiamo sentire i passi dei nostri avversari o comunque sentirci immedesimati per, diciamo, sfruttare al meglio tutto l'audio di gioco. Il collegamento è USB e poi abbiamo i due classici jack per il collegamento all'ambito audio della nostra scheda madre, per il microfono ovviamente e per le cuffie. Andiamo a estrarre tutto l'headset e vediamolo da vicino. Dunque, sul lato sinistro abbiamo il microfono, che come vediamo può essere adattato, non espanso. Al massimo possiamo farlo rientrare se non ci serve. Come vediamo, se lo andiamo a estrarre, posso adattarlo e inclinarlo sul lato che appunto mi serve. I padioni auricolari, come abbiamo visto, sono abbastanza grandi, la gommatura che è presente offre un ottimo comfort, lo vedremo chiaramente bene in fase di recensione e anche sulla parte superiore vediamo che c'è questa parte in pelle che serve ovviamente a tutire e non creare problemi anche dopo averli utilizzati per molto tempo. C'è una... è tutto gommato e vediamo che si adatta, quindi a seconda delle dimensioni della vostra testa potete riuscire tranquillamente a gestire, ad adattarvi a tutta la fascia che abbiamo qui sulla parte superiore. Sul lato destro troviamo il regolatore del volume e il pulsante per accendere o spegnere l'illuminazione dei padioni auricolari. Ad un primo impatto, come detto, sembrano ottime, dobbiamo vederlo poi in fase di recensione in forma approfondita. Il capo pure sembra di ottima fattura, il che contribuisce alla longevità perché non è intrecciato, è gommato, però comunque completamente liscio, sembra molto resistente anche se vado ovviamente a inclinare le... a fare delle curve e a metterlo sotto pressione. Detto questo, diciamo, questo c'è all'interno della confezione, i driver sono da 50 mm, questo lo trovate chiaramente sulla confezione e se avete le domande su questo prodotto, come sempre, scrivetemi giù nei commenti, a me non resta che rimandarvi alla recensione, gli altri due unboxing e le altre due annessa recensioni che arriveranno sul canale. E dunque siamo alla fine, come sempre, se avete le domande su headset gaming o su queste cuffie in generale, potete scrivermi giù nei commenti, vi rimando agli altri unboxing, alle recensioni, se vedete questo video successivamente, vi lascio tutto nelle schede e nelle schermate finali, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video, io vi saluto come sempre e noi ci vediamo alla prossima.